E' in orbita il primo satellite del programma europeo Copernicus dedicato al monitoraggio della qualità dell'aria che respiriamo. La prima sentinella dell'inquinamento atmosferico è stata lanciata il 13 ottobre dalla base russa di Plesetsk e sarà pienamente operativa entro sei mesi. La durata della missione è stimata in sette anni. Si chiama Sentinel-5P. La P significa precursore. Il nuovo satellite fa parte della grande famiglia di Copernicus, composta da gruppi di satelliti le cosiddette sentinelle mandati nello spazio dall'Europa con l'obiettivo di tenere sotto controllo l'ambiente e supportare le missioni di soccorso in caso di catastrofe. Sentinel-5P fornirà una mappa degli inquinanti che infestano l'aria della Terra. Dall'ozono al metano, dal monossido di carbonio al biossido di azoto, grazie al lavoro di Sentinel-5P scopriremo qual è la loro concentrazione nell'aria. Tra gli strumenti di bordo c'è TROPOMI, acronimo di Tropospheric Monitoring Instrument. Si tratta di uno spettrometro in grado di vedere nell'ultravioletto, nel visibile, nel vicino infrarosso e anche nell'infrarosso stesso. È in grado di inviare ogni secondo informazioni di un'area larga a 2600 km e lunga 7. La luce sarà separata in diverse lunghezze d'onda e poi misurata da quattro diversi dispositivi per ciascuna banda. Sentinel-5P in orbita ci dà ogni giorno vedute globali della nostra atmosfera, con una precisione che non abbiamo mai avuto prima, spiega Joseph Ashbacher, direttore dei programmi di osservazione della Terra dell'ESA. Insomma, la nuova sentinella sarà uno strumento per tenere sotto controllo la Terra che cambia, darà una mano anche a capire con maggior dettaglio i cambiamenti climatici che interessano il nostro pianeta. Di cui a qualche anno sarà lanciato anche Sentinel-5, che insieme a Sentinel-4 costituirà una sorta di comparto speciale tutto dedicato all'atmosfera. Sentinel-5P è frutto della collaborazione tra ESA e Olanda. Il suo costo è di 240 milioni di euro.